Ciao ragazzi, ciao belle donne, buongiorno a tutte! Lo spunto per il messaggio di oggi l'ho preso dalle numerose richieste che mi fanno le ragazze durante il percorso Mi amo per amare. Alcuni fanno questa domanda, questa richiesta, direttamente così secca, nuda e cruda, altri ci girano intorno perché è un po' un argomento imbarazzante per loro. Quindi la domanda è che mi fanno, Silvia come faccio a trovare un partner, un fidanzato abbastanza facoltoso affinché mi possa dare la sicurezza economica e io in futuro posso anche non avere problemi economici. Quindi da lui prendere una sicurezza economica. Allora, questo argomento ha una risposta abbastanza complessa. La domanda è, ragazzi, noi vogliamo delegare la nostra sicurezza economica, la nostra serenità per il futuro a una persona estranea. Alla fine è questo che accade. Noi vogliamo trovare qualcuno che ci dia questa sicurezza. Dipende, la nostra sicurezza, la nostra serenità, tranquillità, dipende da qualcun altro. E tu sei sempre in attesa alla ricerca di un partner di questo tipo. Ok? Vi faccio immaginare una scena, una situazione. Supponiamo che tu hai trovato un partner così, è abbastanza facoltoso, ti stanno luccicando gli occhi, stai vedendo che possiede delle cose, degli immobili, dei conti correnti abbastanza sostanziosi. E quindi si inizia una relazione tra voi e magari va anche, inizialmente va anche abbastanza bene. E lui inizia a prometterti, perché fanno spesso così gli uomini, a prometterti, guarda che più avanti, un domani, il prossimo anno, con calma, avrai questo da me. Io ti darò questo, ti comprerò, ti regalerò, farò per te. Ed è anche abbastanza convincente, come lo dice. E tu, come una stupidina, ci credi in tutto, o speri almeno. E vai avanti con questa relazione per mesi, per anni. Inizi già a vedere i primi acciacchi nel suo comportamento, nel suo carattere. Qualcosa non ti piace, qualcosa non ti va giù, qualcosa legato ai suoi parenti, al suo carattere. All'intimità con lui, ai suoi figli magari. Ma siccome il tuo obiettivo è avere una sicurezza economica da lui, che magari ti regala, ti mette per scritto qualcosa di tuo, se li sposate magari. E tu mandi giù dei rospi, delle cose che non ti piacciono. Perché l'obiettivo è sicurezza economica, acchiappare da lui qualcosa di sostanzioso economicamente parlando. E la tua vita e il vostro rapporto diventa pian pianino sempre più infelice. Accade spesso questa situazione, non è sempre, c'è anche la fortuna, ma spesso accadono situazioni del genere. E le donne si trovano ad aspettare, a soffrire, a mandare giù per anni le cose che non le vanno bene. Magari anche, tra virgolette, sfruttando il proprio corpo, la propria intimità, per un domani forse mi arriva qualcosa da lui. E io forse starò tranquilla e serena. Forse tutto sotto il punto di domanda. Ma vale davvero la pena delegare la nostra serenità, la nostra tranquillità, la nostra sicurezza economica a un estraneo? Delegarla? Quanto vale la pena davvero? Quando ho capito il concetto che, non so quando, non vale davvero aspettare uno ricco che ti dia la sicurezza economica un domani, o immediatamente. Quando ho capito questo concetto ho iniziato a lavorare su me stessa, a puntare su me stessa, a costruirmi la mia sicurezza economica passo dopo passo, mese dopo mese, anno dopo anno, mattone dopo mattone. Quando ho capito questo concetto che non vale davvero la pena delegare o aspettare. Mi presento, prima di raccontarti una storia, quella che ho vissuto io e come è avvenuta la trasformazione, la sicurezza economica che adesso ho. Mi presento, sono Silvia Golovacinski, esperta in sensualità e relazioni di coppia. E aiuto tutte quelle donne che sono confuse, sentimentalmente, incasinate, che hanno poca fiducia in loro stesse, nel proprio corpo anche, a acquisire la fiducia, a credere in se stesse, ad avere ancora più autostima di quanto hanno adesso, affinché il loro rapporto con un uomo valido sia sano nel lungo tempo, a partire da se stesse. In che modo aiuto le donne? Attraverso un percorso, mi amo per amare. E se vuoi avere le informazioni corrette, giuste, chiare sul percorso, mi amo per amare, clicca sul link e ci vedremo. 30 minuti io e te li dedico e ti spiego tutto. Allora, come ho fatto io a raggiungere quella sicurezza economica e la serenità che ho adesso? Non sono la milionaria del pianeta, ma ho la mia sicurezza e ti spiego come ho fatto ad arrivare, e non dipendere dal mio Pietro, il mio amato marito, che non c'è più, ma costruire la mia sicurezza, la mia serenità. Sono partita esattamente nel 2015, mi sembra, no, prima, alcuni anni fa avevo una tipografia che avevo comprato io a metà, io a metà Piero, abbiamo investito 50 e 50 in quella tipografia, un affare abbastanza buono in Italia, a Monza esattamente. Non avevo i miei soldini, avevo preso in prestito da mia mamma, non voglio dire le cifre, ma un bel po' di soldi. La mamma li aveva, io non li avevo e ho preso in prestito da mia mamma quella cifra lì. Piero la stessa cosa ha messo la sua quantità di denaro in quell'azienda. E abbiamo iniziato a lavorare insieme. La brutta sorte ha voluto che noi litigassimo insieme nel lavoro. Nell'area lavorativa non andavamo d'accordo, invece nella vita intima di coppia andavamo alla grande. Dopo alcune settimane abbiamo dovuto decidere e scegliere o lavoriamo insieme o rimaniamo come coppia. Una delle due deve essere fuori. Piero ha deciso di andarsene via, lasciarmi quell'azienda che non capivo una, beata cipalipa, era tutto nuovo per me. E lui se ne è andato per i fatti suoi. Io ho dovuto imboccarmi le maniche, imparare tutto, grafica, commercialisti di tutto e di più che non avevo idea, sbirciare su internet, imparare tutto quello mestiere di una tipografia e andare avanti con l'azienda. Anche perché mi vergognavo di brutto fallire perché avevo anche preso in prestito dei soldi. Non volevo vergognarmi davanti a mia mamma, ai parenti, a Piero. Quindi ho dovuto imparare tutto e andare avanti. In quell'occasione sono andata avanti per sei anni così, ho rivenduto dopo, ho venduto questa azienda dopo, i soldi presi li ho investiti in altre cose e pian pianino investendo sono riuscita a creare una sicurezza economica. In più, parallelamente ho dovuto anche studiare perché volevo assolutamente far diventare la mia passione in un lavoro. La passione che riguarda le donne, il lavoro con le donne sulla sensualità, sulla relazione di coppia, seduzione. Ecco, tutti questi argomenti mi appartengono. Quindi ho dovuto studiare, volevo assolutamente diventare coach. Quindi ho fatto i miei piccoli investimenti, le mie fatiche, grande fatiche, in più studio e pian pianino ho dovuto crescere in qualche modo. Questa era la mia crescita, la mia crescita che mi ha portato a una sicurezza economica. Dalla passione ho trasformato in un lavoro, studiando, praticando, facendo a me anche la pratica, anche gratuitamente all'inizio con le donne, ma così mi sono costruita la mia sicurezza e non ho mai dovuto dipendere. In poca parte dipendevo anche da Piero. Ma vi dico una cosa ragazzi, quando dipende da un uomo economicamente, la tua autostima è davvero davvero molto molto giù. Dipendendo da lui sei costretta a chiedere, a umiliarti, mi dai per favore per un reggiseno, mi dai per favore per pagarmi la parrucchiera, mi dai per favore per fare la spesa, ogni volta è una vergogna, un'umiliazione e la tua autostima è davvero molto molto bassa. Ne vale davvero la pena? Ripeto, faccio la domanda. Quando comincerete a capire questo concetto che è molto più conveniente, è molto più efficace investire in se stesse, costruire anche la piccola sicurezza economica, ma costante magari, allora da lì sarà la tua salita verso il successo. Ci metterai sei mesi, ci metterai sei anni, ma se tu inizi con costanza ci arrivi di sicuro. Ok ragazzi, smettete di cercare gli uomini ricchi, perché può essere anche la fortuna, ben venga se arriva, è una cosa in più, ma aspettare, sperare, umiliarti, chiedere in continuazione, mandare giù dei rospi, fare delle cose che non ti piace, non vale davvero la pena. Piuttosto costruisci una sicurezza costante e lenta, ma sarà tua per sempre, anziché dipendere da qualcun altro. Ci sono tante donne che subiscono violenze psicologiche, fisiche anche, anche per il fatto che non sono indipendenti economicamente, non hanno costruito la loro sicurezza economica. E su internet ragazzi, io non sono un'esperta in costruire un business, una sicurezza economica nel tempo, in che modalità, non nel mio tema, ma su internet trovate tanti tanti di quei esperti, farabuti è meno, sicuri, scegliete il migliore, quello che vi ispira di più, seguitelo e iniziate il vostro investimento in voi stesse, affinché voi non dovete dipendere da nessuno. Perché anche nel mio caso, anche se il tuo partner, il tuo marito, il tuo compagno, fidanzato, muore, nel mio caso, non c'è più, io mi sarei davvero trovata in condizioni disastrose. Questo era il messaggio che volevo dire in grande linea a voi, investite in voi stesse lentamente, ma con costanza e ci arriverete. E la vostra autostima crescerà, salirà alle stelle ragazze. Non c'è seduzione, arma di seduzione più forte che la sicurezza, l'autostima buona della donna, dovuto anche da una base sicura economica, piccola o grande che sia. Ok ragazzi? Se vuoi sapere ancora di più e sei richiarita ancora di più su questo argomento o altri argomenti che riguardano la relazione, l'autostima, il dialogo con il partner, io sono a tua disposizione, clicca sul link e ti spiego in che modo aiuto le donne per costruire la loro autostima, rinforzarla e avere un buon rapporto con il partner, se lo vogliono. Ciao ragazzi, un bacione!